Ermanno Schiano, sindaco di Pacoli, ha dimissionato, se così si può dire, due assessori, l'assessore all'urbanistica e all'attività produttiva. Come mai questa scelta? Allora, la scelta è dettata da due motivi diversi. Fermo restando che comunque parliamo di due assessori i quali hanno lavorato benissimo per il Comune. Uno è il professore Delia, che non ha bisogno di presentazioni in quanto è un luminare anche nell'ambito dell'Università di Napoli, ma a livello anche nazionale, conosciuto, anche a livello come ingegnere idraulico e ambientale. L'altro, l'assessore del dottore Scotto, il quale comunque, mentre per quanto riguarda il professore Delia, c'è stato più che altro un problema dovuto all'assenza, per il fatto che il professore era vincolato al fatto che bisognava andarlo materialmente tutte le mattine a prendere e accompagnare dal momento che con la nuova norma dello Stato abbiamo dovuto ridurre le macchine per quanto riguarda l'aggiunta, tant'è vero che abbiamo assegnato una macchina anche agli affari sociali, c'era un problema proprio di collegamento e quindi insomma sono stati questi motivi. Per quanto riguarda invece l'assessore Scotto, i motivi sono da ricondurre a un problema di natura politico. Nulla nei confronti dell'assessore Scotto. Il problema è che spesso, sai, un sindaco inevitabilmente anche nella formulazione dell'aggiunta è frutto di una sintesi politica, tra le varie anime del partito, tra le varie anime di una maggioranza. Nel momento in cui il gruppo, il consigliere, che sotto certi aspetti è stato colui che ha designato il dottore Scotto, non viene al Consiglio Comunale, non sente il bisogno di interfacciarsi col sindaco, del perché di questi motivi. È giusto che comunque, secondo me, il sindaco abbia preso una posizione politica. Il sindaco adesso dovrà sostituire questi due assessori, aspettarà l'indicazione dei partiti ovviamente per un equilibrio di maggioranza? Sì, sì. È una cosa che comunque non è che bisogna farla subito, pure perché comunque ho avvocato a me tutte le deleghe. Quindi comunque la macchina amministrativa continua.